Buongiorno a tutti, sono sempre il titolo Laszlo, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione ho trovato il link che mi manda la home page del sito di Pumpling ho trovato un sacco di maglie con stampe a tema nerd che vengono aggiornate costantemente scarpe con fantasie molto interessanti, cover per smartphone con oltre 600 stampe, poi le felpe, gli zaini, insomma un sacco di prodotti e come vi ho già accennato il mio codice VILASZLO da qualche giorno non dà più il 20% di sconto, bensì se acquistate un qualunque prodotto dal sito potete aggiungere al carrello un paio di calze e quando inserite il codice le calze sono in omaggio è compatibile con tutte le promozioni ma solo ed esclusivamente con la promozione 4x40 che vi permette di comprare 4 magliette al costo complessivo di 40€ quindi facendole pagare 10€ l'una non solo le calze sono in omaggio, il paio di calze, ma non pagate nemmeno le spese di spedizione e questa cosa accade solo con quella promozione, le spese di spedizione non le pagate solo con quella promozione se invece acquistate qualunque altro prodotto oppure usate il codice con una promozione qualunque che non sia il 4x40 avete solo il paio di calze gratis che comunque già quella è una cosa molto interessante quindi se la cosa vi interessa sapete cosa fare adesso però bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi sigla si sentono tanti rumor, si sentono tante speculazioni e negli ultimi giorni hanno anche iniziato a annunciare ufficialmente il merchandise del film con i set Lego ma non solo giovedì hanno mostrato i set Lego e il web è andato in panico oh mio dio diceva qualcuno ma avete visto il set Lego? C'è sicuramente qualcosa di strano su questi set Lego sono state fatte tante di quelle speculazioni che ormai non si contano più io però voglio fare una premessa è bello fare delle speculazioni ma sapete che ormai sono un po' disilluso ma mi diverto comunque a farle insieme a voi ma soprattutto la cosa importante a tenere presente è che i set Lego spesso sono concettuali è vero che si riferiscono a scene specifiche del film in questione ma è anche vero che spesso si inventano le cose non so se vi ricordate quando è uscito il set Lego di Avengers Endgame prima che il film fosse nelle sale e tutti pensavano che la gemma dell'anima fosse in Wakanda perché c'era un set Lego riferito a Wakanda in cui c'era Proxima Medianox come figure con la gemma dell'anima e Proxima Medianox la gemma dell'anima non l'ha mai neanche vista a momenti se non sul guanto di Thanos quindi no non è detto che i set Lego vadano per forza a spoilerare il film e questi set Lego in particolare hanno delle cose un po' strane ad esempio ce ne sono un paio sul Sancta Sanctorum di Doctor Strange e abbiamo la figure di Doctor Strange, quella di MJ eccetera poi c'è anche una figure di Wong che però non sembra Wong ha la carottina con i capelli, ha un giacchettino giallo e soprattutto nel set è seduto davanti al computer non ce lo vedo molto Wong che smanetta con un PC devo essere sincero, ma poi c'è anche questo granchione verde che non si capisce cosa sia, che non ha nessuna nomenclatura sulla scatola e molti dicono è Scorpio ma non mi pare di vedere una coda di Scorpione è l'ammazzaragni, può essere, è un robot, può essere di sì cioè è un Lego, non è che riesce a capire se è un robot o se è una rappresentazione di qualcosa di biologico e molti hanno iniziato a pensare che quella possa essere un'emanazione del multiverso eh già il multiverso, come ho già detto nei precedenti video riguardante Loki il problema del multiverso nell'MCU è che ancora non abbiamo capito cosa sia perché ne parlano in Doctor Strange ma non è il multiverso che penseremmo noi non è quello con le realtà alternative, le varie terre, con la nomenclatura Terra 616 e via ok? che di base è quello che è descritto da misterio in Far From Home poi stava dicendo palle però quello era quindi, cioè, almeno l'idea che veniva presentata era quella che un po' tutti hanno quando si parla di multiverso ne parlano i Loki ma non si è capito se è il multiverso come intendiamo noi sono linee temporali, sono dimensioni insomma diciamo che da questo punto di vista ancora ci devono dire sto cazzo il multiverso come loro lo intendono può essere che questa specie di granchione sia un'emanazione del multiverso? boh, non lo so onestamente poi c'erano anche i set Lego con lo Spider-Man con il costume nero e le ragnatele dorate c'era uno con questo Spider-Man e l'avvoltoio, un altro con Spider-Man misterio ma nonostante fossero della linea di No Way Home comunque c'era un bollino dorato che diceva attenzione, questo set è ispirato a, nel caso di quello con avvoltoio, Homecoming nel caso di quello con misterio, Far From Home però poi hanno annunciato dell'altro merchandise che invece ti fa capire che il costume nero con le ragnatele dorate che è la cui figure era nel set ispirato ai film precedenti dovrebbe essere nel film perché dell'altro merchandise fa capire che effettivamente quel costume dovrebbe far parte di No Way Home perché il giorno dopo mentre registro il video è sabato quindi io dirò ieri però non so se lo metterò oggi o domenica vediamo comunque venerdì hanno annunciato altro merchandise non Lego e quindi ci sono un Funko Pop e un giocattolo più delle figure con lo Spider-Man con il costume nero con tanto, ce n'è uno con tanto di art e se c'è l'art allora vuol dire che effettivamente sarà nel film brandizzati in No Way Home per cui penso che potrebbe essere nel film peraltro il Funko Pop sembra avere sui guanti dei circuiti stampati potrebbe essere potrebbe essere magari eh potrebbe essere l'ultimo costume che Tony Stark ha lasciato a Peter prima di morire un costume di cui lui non sapeva nulla e che Friday magari o qualcuno lo avrebbe avvisato gli avrebbe avvisato della sua esistenza e che fosse da usare nel caso specifico in cui accadesse qualcosa magari Tony sapendo che stavano pasticciando con le linee temporali con la paura che vodesse a succedere qualcosa ha lasciato un costume a Spider-Man con dei dispositivi particolari è una speculazione completamente a caso che però mi è venuta in mente poi abbiamo il Doctor Strange con la pala Doctor Strange con il cioè il mantello l'occhio di Agamotto ma quello tutti dicono ma perché l'occhio di Agamotto ma ancora la Gemma del Tempo ragazzi la Gemma del Tempo è stata distrutta la struttura dell'occhio di Agamotto no magari lo indossa come gioiello per ricordarsi le sue origini visto che è il primo artefatto che ha utilizzato per dire col piumino sotto il mantello la maglietta bianca sotto degli scarponcini gialli e una una pala da neve se guardate la figure di Wong anche lui sembra avere una tenuta un po' particolare da neve volendo quindi non lo so è che molti dicono è uno strange in un altro universo magari è uno strange che è andato a vivere in un posto innevato e ci sarà una gag in cui lo vedi sparare la neve perché non vuole fare tutto con la magia potrebbe anche essere in character sapete che allora se i lego spesso sono concettuali ricordo che c'era anche all'epoca in cui uscì Doctor Strange un un lego del Sancta Santorum con un polipone con i tentacoli che usciva dal camino cosa mai vista nel film ok quindi se i lego sono più concettuali i Funko proprio invece tendono tranne qualche rarissimo caso a rappresentare scene dei film o look outfit dei personaggi come sono nei film a volte anche in modi più bizzarri magari un personaggio ha un look strano in una scena sola ci fanno il Funko quindi magari questa è una gag che c'è nel film con Wong e Doctor Strange che sono andati si sono ritirati in un posto innevato e c'è un momento in cui lui spalla la neve e allora per ridere hanno fatto il Funko Pop non credo che sia il Doctor Strange un altro diverso cos'è il Doctor Strange mister spazzaneve questo è il mio nome e questo è il mio ci farebbe ridere ok per cui penso che sia più una cosa del genere penso che la vedremo nel film sta cosa ma non penso che sia il Doctor Strange un altro diverso poi c'è anche da dire che c'è un Funko Pop e questo forse è quello più interessante che mostra Spider-Man con un costume più classico ma con la la proiezione dei poteri di Doctor Strange ora che sia un costume che manda delle holoproiezioni e perché sono così simili all'emanazione dei poteri degli stregoni che sia uno Spider-Man di un altro universo che è anche stregone però così ho paura che mettano forse proprio leggerissimamente troppa carne al fuoco onestamente la butto lì la butto lì però credo che potrebbe essere interessante sapere perché c'è questo costume cioè che Spider-Man è è sempre lo Spider-Man di Holland è un altro Spider-Man perché poi qua c'è l'idea ma quindi arriveranno sti cazzo di Spider-Man stando a quanto mostrato dalla Marvel negli ultimi tempi soprattutto anche i Loki ma forse può darsi che magari veramente ci stanno in Spider-Man poi sapete che hanno beccato un ragazzino ha beccato a Tobey Maguire da New York e gli ha detto ma sei nel film e gli ha detto non posso dire niente e ha fatto l'occhiolino insomma ci sono tante cose che stanno succedendo rumor sul fatto che Holland Garfield e i Maguire sarebbero stati avvistati a New York tutti e tre insieme perché quindi ci sono tante domande però questo merchandise a parte il fatto che per me è molto figo ok soprattutto i set Lego sono belli ma anche i fan quindi non sono un grande appassionato di Funk però mi piace averli in giro quando me le regalano li ho messi tutti nella vetrinetta quindi ci può anche stare non sono uno che se ne compra tanto io compro più figure che Funk però comunque non è che mi disprezzo sono dei collezionabili a basso costo che si possono anche essere carini io preferisco i movie moments proprio dovevo prendere i Funk infatti la sua volta che mi regalò anche quello lo volevo proprio quello si il movie moment con Batman che picchia Joker con gli occhiali che risale al primo Batman e Tim Burton vabbè quindi questi Funko sono interessanti per cui fanno nasce anche delle speculazioni poi c'è una figure meravigliosa di Jonah Jameson anche qua Jonah Jameson senza i capelli come perché in Far From Home alla fine compareva col cappello perché in realtà l'avevano inserito all'ultimo e non avevano fatto in tempo a fargli il toupé fatto bene si vede che poi quella versione è piaciuta a tal punto che hanno deciso di farlo senza capelli un Jonah Jameson più sportivo con la giacchetta sportiva blu tutto incazzato la cravatta mezza sciolta e J.K. Simmons durante un'intervista ha fatto intendere che lui sarà parecchio presente nel film del resto per fare una figure dedicata al personaggio significa che non lo vedremo poco per cui anche qui può essere interessante per cui chissà questo merchandise non dico che faccia proprio spoiler ma è una manovra di marketing 3.0 perché non è solo merchandise che vuole vendere ma è un merchandise che essendo rilasciato prima dell'uscita del trailer del teaser trailer ti fa pensare cazzo cioè ma cosa vuol dire perché quello è il potere da stregone perché è un Wong ha i capelli è un Wong di un universo alternativo perché sta al computer ha un modo diverso di pensare le cose perché non è quel Wong che conosciamo ma quella creatura è un che cos'è è un è l'ammazzaragni è Scorpio che cosa sta succedendo io non credo di aver mai visto un hype del genere per un film ma neanche per Endgame perché comunque l'hype per Endgame era anche giustificato perché era di base la seconda parte di Infinity War potevamo chiamarmelo anche in maniera diversa ma quello era per la percezione del pubblico Spider-Man No Way Home invece è un film comunque sì seguito di Far From Home e di Oncoming per l'amor di Dio però allo stesso tempo sta diventando un caso mediatico e rumor e indiscrizioni vorrebbero che Kevin Feige abbia chiesto a Sony di non far uscire il film prima del finale di Loki perché sempre stando a questo rumor da prendere con le pinze ma proprio lunghe Sony avrebbe voluto far uscire il trailer già qualche giorno fa ma Feige per l'appunto ha chiesto questa cortesia dicendo noi collaboriamo ma voi non sapete tutto quello che stiamo facendo a livello di progetti non conoscete tutte le nostre trame fidatevi che è meglio farlo uscire dopo l'ultima puntata di Loki perché l'abbiamo scritto noi il film e sappiamo con cosa l'abbiamo incastrato e Sony avrebbe accettato ora sono indiscrezioni per l'amor di Dio però io non vedo l'ora che esca il teaser perché anche se dovesse esserci davvero i tre Spider-Man non credo se li brucierebbero nel teaser ma almeno capiremo se c'è questo multiverso e nel caso di che cazzo di multiverso si tratta io sono molto curioso quindi è stato interessante non so giocare un po' a trarre indizi dal merchandise che peraltro secondo me è anche in buona parte da acquistare io non so se non per una questione del fatto che magari non sono convinto no no mi convincono anche ma dove cazzo li metto non ho spazio questa casa la adoro ma sta iniziando a diventare un po' piccolina infatti stiamo vedendo se è il caso di comprare casa vorremmo comprare casa sempre qua in zona ma una casa con almeno sei stanze più che altro perché io ho bisogno come anche lei di uno studio cioè io faccio i video e sono qui lavoro per Tom e sono qui faccio le live e sono qui guardo guardo un film una serie e sono a dieci centinaio di distanza qui cioè io sostanzialmente quando sono in casa vivo sempre nello stesso ambiente e credo che poter staccare l'ambiente di lavoro da quello di relax sia fondamentale per cui anche per motivi di spazio perché non riesco più non riusciamo più negli una svetta a tenere le nostre cose inordinate per cui penso che prenderemo più avanti una casa compriremo una casa quindi se avessi spazio magari uno di questi a telego lo comprerei anche però io voglio sapere cosa ne pensate voi sono estremamente curioso perché le speculazioni ormai sono parecchie ragazzi sono veramente veramente parecchie quindi fatemelo sapere cosa ne pensate io vi abbraccio grazie a tutti ma tanto ma tanto bene e poi scrivetemi nei commenti qui sotto secondo voi quando uscirà questo benedetto teaser trailer per cui io ho sperato troppo noi ci vediamo al prossimo bui vlog ciao a tutti